IL LIBRO DI AGGEO Nel secondo anno del regno di Dario, il primo giorno del sesto mese, il Signore parlò per mezzo del profeta Aggeo. Il messaggio era rivolto al governatore di Giuda, Zorobabele, figlio di Sealtiel, e al sommo sacerdote Giosuè, figlio di Iosedac. Il Signore dell'Universo disse ad Aggeo, «Questo popolo dice che non è ancora il momento di ricostruire il Tempio del Signore». Ed ecco il messaggio del Signore inviato per mezzo del profeta Aggeo. «Vi sembra giusto abitare in case riccamente decorate mentre il mio Tempio è in rovina? E ora io, il Signore dell'Universo, vi invito a riflettere sulla vostra situazione. Voi avete seminato molto, ma avete raccolto poco. Avete cibo, ma non a sufficienza da sentirvi sazi. Avete da bere, ma non abbastanza per essere allegri. Avete vestiti, ma non abbastanza per riscaldarvi. Il salario del lavoratore si esaurisce in fretta, come in una borsa bucata. «Ora io, il Signore dell'Universo, vi invito a riflettere sulla vostra situazione. Salite sul monte, tagliate il legno necessario e ricostruite il Tempio. Questo mi farà piacere e mi renderà onore. Lo affermo io, il Signore». «Avete sferato grandi raccolti, ma ecco il poco che avete ottenuto. Io ho disperso quel che avevate radunato a casa vostra. Io, il Signore dell'Universo, vi domando, perché questo? Perché la mia casa è in rovina, mentre ciascuno di voi si preoccupa della propria? Per questo il cielo non vi manda la rugiada e la terra non dà frutto. Io ho provocato la siccità sulla terra, sui monti, sui campi di grano, sulle vigne, sui uliveti e sulle altre coltivazioni, sugli uomini, sulle bestie e su ogni lavoro che voi fate». Zorobabele, figlio di Sealtiel, e il sommo sacerdote Giosuè, figlio di Iosedach, e tutti quelli che erano ritornati dall'esilio, ascoltarono il messaggio del Signore, loro Dio, riferito dal profeta Aggeo. Aggeo aveva completato così la missione che il Signore gli aveva affidato, e il popolo riconobbe l'autorità del Signore. Allora Aggeo, il messaggero del Signore, si rivolse al popolo, secondo la missione che aveva ricevuto, e disse, «Io il Signore sarò con voi, ve lo prometto». Allora il Signore risvegliò il desiderio di ricostruire il Tempio in Zorobabele, figlio di Sealtiel, governatore di Giuda, e in Giosuè, figlio di Iosedach, sommo sacerdote, e in quelli che erano ritornati dall'esilio. Tutti intrapresero i lavori per la ricostruzione del Tempio del Signore dell'universo, loro Dio. Era il ventiquattresimo giorno del sesto mese, nel secondo anno del regno di Dario. Il ventunesimo giorno del settimo mese dello stesso anno, il Signore parlò di nuovo per mezzo del profeta Aggeo. Il messaggio era rivolto al governatore di Giuda, Zorobabele, figlio di Sealtiel, al sommo sacerdote Giosuè, figlio di Iosedach, e a quelli che erano ritornati dall'esilio. «C'è ancora qualcuno tra di voi che ha visto il mio Tempio come era prima del momento del suo splendore? E adesso, in quali condizioni lo vedete? Non vedete che ora è ridotto a nulla? Per questo ora io, il Signore, dico «Riprendi coraggio, Zorobabele, riprendi coraggio, sommo sacerdote Giosuè, figlio di Iosedach. Coraggio, gente di tutto il paese, mettetevi al lavoro, perché io sarò con voi. Ve lo prometto io, il Signore dell'universo». «Ho preso questo impegno con voi quando siete usciti dall'Egitto. Perciò non dovete aver paura, perché io sarò presente in mezzo a voi, io, il Signore dell'universo. Tranno molto scuoterò il cielo, la terra, il mare e il continente. Farò tremare tutte le nazioni. I loro tesori affluiranno qui, e io ridarò al mio Tempio il suo splendore. Lo affermo io, il Signore dell'universo. Infatti tutto l'argento e l'oro della terra mi appartengono. «In questo modo lo splendore del nuovo Tempio sarà più grande di quello del primo, e in questo luogo io vi darò la pace. Io, il Signore dell'universo, ve lo prometto». Il ventiquattresimo giorno del nono mese del secondo anno del regno di Dario, il Signore Dio dell'universo si rivolse ancora al profeta Ageo per dirgli, «Domanda ai sacerdoti di pronunziare un giudizio su questo argomento». «Supponiamo che un uomo porti in un lembo del suo vestito carne offerta al Signore. Se il vestito tocca pane, cibo cotto, vino, olio o qualsiasi altro alimento, questi alimenti sono forse da ritenersi consacrati al Signore?» «No», risposero i sacerdoti alla domanda di Ageo. «Allora Ageo chiese ancora...» «Supponiamo che un uomo sia impuro per aver toccato un cadavere. Se poi egli tocca del cibo, questo diventerà impuro?» I sacerdoti risposero, «È impuro». Allora Ageo continuò, «Così il Signore giudica questo popolo e questa nazione. Tutto quello che fanno e tutto quello che mi offrono è impuro». Il Signore dice, «D'oggi in avanti fate bene attenzione. Prima che cominciaste a mettere pietra su pietra per ricostruire il mio tempio, che cosa vi succedeva? Andavate nel granaio a cercare venti sacchi di grano, ma ce n'erano solo dieci. Andavate al tino per prendere cinquanta litri di vino, ma ce n'erano solo venti. Io ho distrutto qualsiasi cosa che voi cercavate di far crescere. Ho fatto seccare o marcire i cereali, ho fatto cadere la grandine, ma non siete tornati a me, il Signore. Da oggi in avanti fate bene attenzione. Questo giorno, il giorno in cui si sono poste le fondamenta del mio tempio, è il ventiquattresimo del nono mese. Fate bene attenzione. Non c'è più grano nei granai, non è vero? Le vigne, gli ulivi, gli alberi di fico e di melograno non hanno prodotto niente. Da oggi, però, io vi restituirò la mia benedizione». Lo stesso giorno, il ventiquattro del mese, il Signore si rivolse una seconda volta ad Ageo per chiedergli di riferire questo messaggio a Zoro Babele, governatore di Giuda. «Io scuoterò il cielo e la terra, farò cadere i re dai loro troni e metterò fine alla potenza dei regni della terra. Farò rovesciare i carri con i loro cocchieri, i cavalli moriranno e i cavalieri si uccideranno tra loro. In quel giorno io ti prenderò, Zoro Babele figlio di Sealtiel, servo mio, e ti custodirò come un anello prezioso, perché io ti ho scelto per rappresentarmi. Lo affermo e lo prometto, io il Signore dell'universo».